Non sappiamo cosa ci faranno vedere, però vediamo Aiutami Aiutami Fin dall'inizio ci avete shippato, questa cosa comunque è una cosa bella Anche se siamo amici e non risponderò ad altre domande senza il mio avvocato Un applauso a Matteo No vabbè dai carino Matteone Risponde sempre in modo riservato, però che non riesce a controbattere Ha sempre le risposte Non risponde senza il suo avvocato, io non sono il suo avvocato Quindi neanche Lisa risponderà Mi ha interpellato, ma non posso rispondere senza il mio avvocato Niente Quindi vi lasciamo con Furga